Inaugurato il 4 maggio 2013, a tutt'oggi non è ancora attivo a causa della mancanza dell'accreditamento e del convenzionamento regionale. Si tratta del centro residenziale per diversamente abili Villa Gioia dell'Aias, ubicato lungo la strada regionale 479 per Scanno, ad un chilometro circa da Sulmona. A sollecitare lo sblocco della situazione è il presidente nazionale dell'Aias, Salvatore Nicitra, che ha scritto al governatore Luciano D'Alfonso, agli assessori regionali Silvio Paolucci alla Sanità e Marinella Sclocco alle Politiche Sociali e al sindaco del capologo Peligno, Peppino Ranalli. La precedente amministrazione regionale, rileva Nicitra, ha intrapreso il riordino delle strutture riabilitative dopo che per circa 30 anni si è andati avanti con negatività per i disabili ricoverati con costi per la regione di rette pro capite elevatissime. Il problema, prosegue, è stato sempre rinviato a discapito delle famiglie dei diversamente abili e della spesa sanitaria. Salvatore Nicitra intende far presente l'importante lavoro svolto dall'Aias nel territorio Peligno dal 1972 che ha portato alla realizzazione nel 1994 di un centro diurno di 500 metri quadrati, nel quale vengono accolti in particolare ragazzi diversamente abili che hanno terminato la scuola pubblica e rischierebbero l'isolamento e dove vengono svolte attività abilitative e formative attraverso la realizzazione di oggetti di artigianato ed altro. Il lavoro dell'Aias si è inoltre concretizzato con l'ultimazione nell'autunno 2012 del centro residenziale Villa Gioia di 1000 metri quadrati su 10.000 metri quadrati di terreno realizzato in una zona completamente sprovvista. Dopo un anno e sei mesi dall'inaugurazione però non riesce ancora ad entrare in funzione in quanto mancano l'accreditamento e la convenzione da parte della Regione. Il presidente nazionale dell'Aias, Salvatore Nicitra, chiede all'istituzione regionale di sbloccare al più presto la situazione nell'interesse, conclude, delle fasce più deboli.